In estate, al momento dell'uscita della calendaria, è fondicata quasi all'unanimità come la partita a Scuretto e la campionato si è divertita a modificare e quasi violentare le gerarchie. L'Inter in segola Roma, la Juve spera più nel quarto posto, ecco perché stasera le due squadre non possono sbagliare. Stadio Giuseppe Miazza, Milano Sanzino, una buona serata da Maurizio Compagnoni. E Beppe Bergomi. Cerca la soluzione personale del Piero, viene attaccato, il guincio di del Piero, zona tiro, parte il tiro, Giulio Cesar. Grande avvio di partita della Juve. Se c'entra Maicon, cerca la percussione, chiede l'1-2, Motta, zona tiro, Tiago Motta, parte il tiro, un suono, strepitoso in calcio d'angolo. L'anticipo di Zanetti, va Bianca del Piero, accelera Zanetti, subranca Sissoko con lo stand, calcio di punizione. Sissoko attenzione, era stato all'unito e finisce qui la partita di Sissoko. E' spulso Sissoko, Juventus in 10. Errore di Diego, parte l'Inter, l'apertura di Pandev, Cannavaro chiude il suo toro, se ne va il toro, e tu in ore di rigore, e tu, balla fuori! Pallone di ritorno per Balotelli, a chiudere Filippo Emelo, si coordina Balotelli per il cross, cerca ancora Maicon, chiude grosso, poi Maicon, ruba il pallone, cross basso, Milito, palla fuori di un soffio! Parte Diego, palla sotto, colpo di destra, pericolosissimo, da parte di Cannavaro. Il segmento di Stankovic, a mandare in percussione, Stankovic, parte il tiro, un po' Palla per Balotelli, segnato ballo, Milito! Palla, gol, clamorosa per Milito. Parte Snyder, tutti a vuoto, attenzione, Milito gli toglie il pallone, Filippo Emelo. Poi Maicon in palleggio, Maicon ancora, parte il tiro, errete, errete, un gol straordinario di Maicon, l'intero in vantaggio. Parte Balotelli, palla che gira, incrocio le pali! Parte Diego, palla che gira, Giulio senza la torta dall'incrocio! C'è Balotelli libero a sinistra, pallone per Balotelli, Milito di rigore, il tiro sporco di Buttani, è toro, è toro! Il rodoppio dell'Inter! Il rodoppio dell'Inter!